Salve a tutti e benvenuti a questo primo video del progetto i tizietti blog e prima di iniziare questo lungo percorso perché vi tedierò a lungo volevo fare dei ringraziamenti in primi sicuramente ai primi 30 fan che hanno creduto in questo progetto e non solo hanno visualizzato il mio primo video ma mi hanno anche aiutato a portare delle migliorie a quelli che saranno i video successivi in merito a questo volevo farvi una piccola comunicazione soprattutto sulla terza parte del mio progetto che verrà spostata in quanto essendo temi come avevo già detto scottanti riguardanti la politica e quindi il mondo dell'attualità avevo preferito grazie al suggerimento di un mio caro amico che è Matteo Teus Prati peraltro un bravissimo dj di spostare questi video dedicati all'ambito politico su un altro canale quindi un po' un altro progetto per evitare diciamo delle incomprensioni a carattere politico per cui per la terza parte del progetto si sposterà su un altro canale che per gli interessati io linkerò avete visto come sono coerente nelle mie decisioni quasi quanto questi governi basta con parole battute politiche se no faccio il grillo della situazione no a parte questo altro piccolo ringraziamento va a un altro mio amico che mi ha segnalato invece un progetto del tutto italiano in quanto sia lo sceneggiatore che il regista sono due italiani peraltro il regista ha studiato alla scuola di cinema di Los Angeles e ha deciso in un momento di crisi quindi in un momento difficile non solo per il cinema italiano ma per tutti un po' i settori della produzione di farsi avanti e sfidare un po' quella che è la sorte mettersi in competizione e io credo che in questa crisi non dobbiamo sempre scoraggiarci ma pensare che esiste comunque una possibilità e la possibilità sta nel mettersi in gioco sicuramente sta nel mettersi in gioco e questo regista che si chiama se non sbaglio Alessio Liguori che si chiama Alessio Liguori ha praticamente portato avanti questo progetto che è un film horror totalmente italiano in quanto progetto che si chiama In The Trap sotto nella descrizione trovate il link praticamente del sito web peraltro realizzato in modo fantastico e nel quale trovate praticamente i teaser trailer di questo film in quanto è ancora in produzione ma speriamo che possa arrivare anche da noi in Italia non credo nelle distribuzioni cinematografiche perché un po' come si sa il cinema italiano predilige un po' i cinepanettoni e i film che vendono mai le opere di una certa qualità però speriamo di trovarlo almeno in streaming intanto ve lo segnalo ed è secondo me un bellissimo progetto perché rappresenta un po' una speranza all'interno di questa crisi che come ripeto detto non è solo una crisi cinematografica bene bene e dette un po' queste prime informazioni possiamo partire con quello che è il primo progetto il primo video del progetto i tizietti blog e si parte come avevo già detto con i film horror che sono la mia più grande passione eccetera eccetera e avevo pensato di partire con una monografia quindi non con recensioni di film che arriveranno spero una volta alla settimana a seconda insomma di quanti compiti ho da svolgere però generalmente almeno ve ne prometto due o tre al mese però avevo pensato di iniziare con una monografia e vi spiego subito perché perché il personaggio che andrò a prendere in esame è un capostipite del genere horror non solo italiano ma a livello sia europeo che mondiale ed è sicuramente il regista cult ed è Dario Argento perché la scelta di Dario Argento? perché è sicuramente una scelta abbastanza particolare in quanto è sicuramente un regista tra i più conosciuti e quindi non rispecchia pieno la volontà di questo progetto di portare avanti uno scambio di idee tra persone appassionate dell'horror in ambito di film semi-siconosciuti ma perché proprio Dario Argento? perché iniziare con Dario Argento? perché io ho iniziato con Dario Argento e lo dico chiaramente la mia passione per l'horror è iniziata con Dario Argento non è stato il primo film horror che ho visto perché il primo film horror che ho visto è stato Fragile di Juan Balagueró però insomma Dario Argento con Dario Argento sono entrato nel mondo dell'horror e quindi avevo pensato di catapultare anche voi nel mondo della visionarietà e della follia pura attraverso proprio Dario Argento che secondo me è la porta la porta che si apre in questo mondo e quindi iniziamo questa monografia sul maestro del brivido o erede di Hitchcock come viene chiamato allora innanzitutto alcune premesse non allungherò il brodo che è già troppo lungo con le trame, dati biografici credo che siano fuori da questo progetto a parte che rovinerebbero la visione del film ma credo che non c'entrino niente con questo progetto ma mi interessa proprio condividere diciamo le sensazioni che questi film hanno portati mi hanno suscitato scusate e l'unico dato biografico che vi dico su Dario Argento è che lui è nato nel mondo del cinema in quanto il papà era poi il produttore ed è stato il produttore dei suoi film fino alla sua morte dopo intervenuto il fratello quindi diciamo che nel mondo del cinema argentiano la raccomandazione ha fatto tanto perché se non ci fosse stato il padre diciamo a finanziare i suoi film Dario Argento avrebbe finito per fare sicuramente tutt'altro film con scarso budget probabilmente non avrebbe fatto quello che ha fatto quindi insomma le raccomandazioni un po' contano un po' contano e Dario Argento il suo primo film che ha fatto è L'uccello L'uccello dalle pime di cristallo che è circa vado a scorrere la data perché mi trovo ignorante totalmente sulle date mi scuserete è del 1970 quindi praticamente più di 40 anni fa sembra un'epoca remota quando questo film uscì ma tuttora questo film è uno dei più visti nel mondo nel mondo dell'orro e con L'uccello delle pime di cristallo si apre la stagione oro del giallo all'italiana non che il giallo all'italiana non esistesse prima perché il giallo all'italiano parte praticamente dagli anni 40 in poi però con Argento prende una piega totalmente diversa diciamo è colui che ha codificato il giallo all'italiana e soprattutto lo ha reso tale da varcare il confine nazionale e credo che questo sia il primo merito di Argento alla filmografia horror quello di aver introdotto il giallo all'italiana all'estero e tuttora questo tipo di film con queste caratteristiche è il genere più apprezzato dall'estero anche perché un regista come Quentin Tarantino se ne può sbattere le palle dei cinepanettoni di Christian De Sica e di tutta la compagnia bella infatti il regista il regista un regista come Tarantino si va a guardare Dario Argento e Lucio Fucci non viene sbatti i maroni di De Sica Michelunzi che era tutti sti attoruncoli e registuncoli qua per cui il primo vanto di Dario Argento è proprio questo quello di aver portato il giallo all'italiano di averlo trasformato metamorfizzato e di averlo portato poi in Europa in Europa e poi dall'Europa nel mondo e perché L'uccello dalle piume di cristallo questo film particolarissimo è divenuto la porta verso il successo di questo genere perché L'uccello dalle piume di cristallo che è una trama veramente molto semplice ve la racconto in due secondini proprio netti senza rovinarvi nulla c'è un personaggio a caso che sta assistendo a una scena di omicidio e poi non riuscendo a togliere dalla testa inizia ad indagare questa è la trama basilare del film ma quindi un semplice giallo ma cosa che argento aggiunge in questo giallo aggiunge la visionarietà e con L'uccello dalle piume di cristallo si parla di visionarietà perché è un giallo visivo quello che rimane impresso a questo personaggio è un'immagine e in tutto il film si porterà avanti questa immagine fino alla soluzione finale quindi è un giallo che non si basa tanto sull'investigazione c'è l'importanza di questo giallo non c'è un detective che investiga o lo Sherlock Holmes di turno no ma semplicemente c'è l'immagine c'è la potenza dell'immagine che entra nel giallo e che sarà poi la soluzione finale l'immagine è la soluzione finale si parte con l'immagine e si conclude con l'immagine in questo rito ciclico Dario Argento inaugura una nuova stagione del cinema giallo barra horror italiano perché aggiunge l'immagine aggiunge la componente visiva e inoltre con l'ucero delle piume di cristallo si aprirà la cosiddetta trilogia degli animali che sono tre film dedicati proprio ciascuno a degli animali questi animali sono simbolo di metafora in quanto non compaiono letteralmente nel film e sono simbolo di questa immagine che è la soluzione del puzzle e la tassello mancante per risolvere poi la soluzione quindi Dario Argento ha decostruito distrutto il giallo l'agata cristi scordatevi Poirot e le sue battute antifrancesi non ci sono non c'è Poirot qui c'è l'immagine e c'è questa quest'animale che rappresenta la potenza dell'immagine peraltro la trilogia degli animali ha avuto un successo tale non solo con questo film ma anche con gli altri due successivi che molti registi hanno copiato quelli che sono i titoli vi consiglio un film di cui farò la recensione più avanti che è il film Il gatto dagli occhi di Giada che è ripreso diciamo della trilogia degli animali di Argento ed è un giallo del tutto fantastico e credo uno dei più belli dei più belli che in Italia sia stata mai fatti quindi farò la recensione un'altra volta però intanto lo trovate su Youtube quindi tranquillamente potete guardarvelo è veramente un film fantastico e che segue questa scia dell'immagine l'immagine che appare l'immagine un po' che stravolge e questo era un po' l'uccello dalle piume di cristallo con questo uccello dalle piume di cristallo che sconvolge e sconvolge anche la critica sconvolge anche il pubblico che non era abituato a un giallo del genere Argento dopo questo credo dopo due anni fa il secondo film della trilogia degli animali e che è Il gatto ha nove code anche qui l'immagine del gatto gatto che non è presente letteralmente nel film ma che illude sempre metaforicamente alla potenza visiva alla potenza visiva del giallo di Argento questo film però visivamente è inferiore rispetto al precedente assume più la sostanza di un giallo classico per quanto innovato è diverso dai gialli dell'Agata Cristi però la potenza visiva qui si sente meno e sinceramente è un film bello bello che dovete dovete vederlo però però lascia meno lascia molto meno la particolarità di questo film è la caratterizzazione dei personaggi credo che in questo film Argento dia il meglio nella caratterizzazione dei personaggi cioè pecca nella componente visiva in quanto un film calmo piatto nella filmografia argentiana però però nella caratterizzazione dei personaggi secondo me qui Argento fa un lavoro eccezionale cosa che non farà poi nei film successivi ripeti queste sono mie opinioni sulle sensazioni che questi film hanno lasciato poi ovvio anche il gatto a nove code è considerato un film cult quindi quando io parlo di piattezza non non è una critica negativa al fatto che il film faccia schifo no non fa schifo il film è bellissimo piatto rispetto alla potenza visionare dell'uccello dalle piume di cristallo dopo il gatto a nove code conclude la trilogia degli animali con quattro mosche di velluto grigio e al di là del probabilmente il titolo più bello della trilogia degli animali torna Argento in pompa magna e porta avanti questa sperimentazione visiva ancora più forte rispetto all'uccello dalle piume di cristallo e qui aggiunge un'altra nota importante nella produzione argentiana che è quella degli eventi fantastici soprannaturali e qui cito Coleridge Coleridge era un autore romantico che ha inaugurato il romanticismo in Inghilterra e Coleridge credeva che si dovesse unire la realtà materialistica come la chiamava lui cioè la realtà umana con quella soprannaturale e leggetevi la bellissima insomma bellissimo poemetto che è quella rime Rime of Ancient Mariner le rime di un antico marinaio che proprio avverte proprio su questo gioco di soprannaturale e realtà invece umana e qui Dario Argento lo fa e lo farà anche nei futuri nei successivi film che probabilmente sono i suoi più grandi successi cioè davanti alla realtà umana cioè l'assassinio normale è sempre il solito classico tizio che si trova nella situazione sbagliata al posto sbagliato sto povero sfigato sto sfigatello che inizia ad ad indagare inizia ad avere anche delle ci sono anche delle visioni all'interno del film molto particolari e fin qua c'è la realtà normale però ci sono degli elementi soprannaturali però siamo in un giallo e in un giallo uno si aspetta una linea una linea guida chiara chiarificante lineare argento gliene sbatte i coglioni non lo fa non lo vuole fare difatti alla fine del film non ve lo svelo però vi è un elemento totalmente fantastico totalmente inventato che non è scientifico quindi la soluzione finale di questo giallo non è scientifica non esiste è una soluzione totalmente inventata dall'autore è un elemento fantastico che però si basa sulla visionarietà e questo è un altro elemento del giallo argentiano che porta che porta in Europa che non porta in Europa e nel mondo quello di un elemento soprannaturale che però non pecca non stecca neanche non ce ne accorgiamo neanche perché il film si basa su una tal potenza visiva che non ce ne accorgiamo neanche perché argento questa è un'altra caratteristica che vedremo soprattutto nei film successivi devia porta a deviare lo spettatore con queste visioni con queste immagini potenti ricche di significati devia lo spettatore che a un certo punto non si rende conto di quello che è reale quello che invece quello che invece non lo è per niente lo spettatore si trova talmente in una realtà disorientante che non si accorge più della differenza fra realtà e fantasia e argento nei film ci mette delle cose che in teoria non stanno né in cielo né in terra ma noi siamo talmente disorientati quasi fossimo in un trip di lsd tanto grazie proprio a questa potenza visionaria che noi non ce ne rendiamo conto e argento devia lo spettatore lo devia e e lo porta proprio in dimensioni fantastiche perché nei gialli di argento non è importante il colpevole in realtà per quanto alcune volte i colpevoli sono veramente eccezionali a volte ci sono dei dettagli che il colpevole lo si capisce praticamente dopo un quarto d'ora venti minuti però argento disorienta quindi noi anche se magari l'abbiamo capito ce ne dimentichiamo del colpevole perché il vero protagonista dei gialli argentiani è l'immagine l'immagine è soprattutto la fantasia che subentra alla realtà e alla razionalità e da qui in poi argento prenderà un'altra strada che è quella dell'horror e anche qui argento condizionerà tantissimo l'horror tanto che si parla di horror argentiano si parla di erede di Hitchcock eccetera qui però c'è da fare una nota Dario Argento quando passa all'horror si ispira al suo maestro anche se non l'ha apparentemente dichiarato però si ispira al suo maestro che è Mario Bava Mario Bava ne parleremo in una futura monografia è un regista che ha operato negli anni sessanta settanta nel cinema italiano e è stato il più grande regista horror gotico nella storia non solo italiana ma anche della cinematografia mondiale e Mario Bava è uno dei registi preferiti ripeto di Tarantino e della maggior parte dei registi che operano ad Hollywood quindi è stato un pilastro saldo e Argento riprende da Bava e cosa riprende? riprende la potenza visionaria però Bava la utilizza in maniera diversa che Argento Argento invece utilizza questa potenza visionaria sempre per disorientare lo spettatore ora passiamo quindi all'horror argentiano che appunto riprende riprende un po' alcune caratteristiche soprattutto a livello fotografico e scenografico da Mario Bava da Mario Bava a cui si deve ripeto la scoperta della visionarietà perché non è vero che è la scoperta Argento parliamoci chiaro Argento l'ha importata nel giallo e ha decostruito il modello del giallo e questa è la grande scoperta di Argento Argento non ha inventato nulla nulla faccio un esempio chiarificante se Mario Bava ha inventato l'acqua Argento ha inventato l'acqua calda però ha rinnovato l'acqua perché l'acqua calda permette di fare altre cose è questa la potenza di Argento quello di aver introdotto l'acqua calda nell'acqua perché l'acqua c'era già se voi vedete dei film di Mario Bava come per esempio i tre volti della paura o Kill Baby Kill vi rendete conto della potenza visionaria soprattutto in alcune scene in cui c'è una ripresa di 30 secondi o in un minuto non mi ricordo della scala chiocciola c'è la telecamera che gira su questa scala chiocciola potenza visionaria ai massimi livelli però Argento la porta nel giallo e questa è la grande novità ora Argento la porta nell'horror e riesce a non scoprire l'acqua calda a scoprire l'acqua evaporata si alza ancora di più di livello e abbiamo Profondo Rosso e credo che tutti quanti conoscano Profondo Rosso anche perché è il film horror italiano più visto al mondo a recezione del Giappone ed è il film più conosciuto di Dario Argento e Profondo Rosso si doveva chiamare La Tigre dai denti a sciabola e doveva essere in realtà l'ultimo film della quadrilogia degli animali poi però ha cambiato nome quindi la quadrilogia è divenuta una trilogia ma al di là della matematica Profondo Rosso Deep Red si chiamava così perché Deep Red perché in origine la corona sonora l'avrebbero dovuta fare i Deep Purple quindi Deep Red Deep Purple una fantasia che è proprio una meraviglia comunque cosa è successo i Deep Purple non fanno più la corona sonora Argento allora chiama i Goblin i Goblin capitanati da Simonetti che tuttora opera nel campo delle sperimentazioni elettroniche è una band del tutto innovativa del tutto innovativa perché cambia le regole delle colonne delle colonne sonore utilizza è una delle prime band a livello italiano che utilizza i synth e che inizia la sperimentazione elettronica e nei film di Argento ci troviamo da un lato delle composizioni jazz dall'altro delle composizioni prog rock però con elementi di sintetizzatori ed elementi proprio discordanti che continuano l'opera di disorientamento dello spettatore e questo è Profondo Rosso Profondo Rosso che è sicuramente il capolavoro di Argento del primo horror argentiano anche qui la trama è molto semplice perché ad Argento non interessa la trama ci sono anche dei buchi proprio di sceneggiatura all'interno della trama ma quello che colpisce in questo film è la sceneggiatura perché qui la potenza visionaria è veramente portata all'estremo livello qui in Profondo Rosso ci si perde ci si perde completamente nel film e soprattutto qui porta avanti quell'effetto disorientamento che vi dicevo che vi dicevo prima e questo sarà il film più bello per quanto riguarda il disorientamento perché perché voi credete in una cosa quanto in realtà sarà tutt'altro e anche questa volta il finale sarà svelato da un'immagine sarà svelato da un'immagine un'immagine che torna nella testa del protagonista è proprio questa immagine che disorienta lo spettatore perché questa immagine è perché questa immagine darà la soluzione ma che è una soluzione diciamo talmente particolare quasi da far sentir male allo spettatore perché non se l'aspetta e qui dare a gente gioca sul colpo di sorpresa non tanto sull'assassino perché ripeto quando avete avrete scoperto il colpo di sorpresa dell'assassino non ve ne frega niente ma a voi frega dell'immagine vi frega di quell'immagine che avete visto che avete visto nel film e dite cazzo porca miseria ci poteva arrivare anch'io sono stato talmente disorientato che ora che ritorno alla realtà che cazzo è successo vi ripeto il profondo rosso è un trip è come se vi fate un trip di LSD voi dall'inizio vi siete fatti l'LSD vedete le visioni più incazzate che vi pare dopodichè vi svegliate dal sonno siete tutti in botta ah e vedete questa immagine e quindi venite catapultati in un altro universo ed è questa la potenza di profondo rosso e inoltre abbiamo le musiche e chi non conosce la musica di quando arriva la bambola robotizzata ad uccidere uno dei personaggi di profondo rosso ed è una melodia veramente agghiacciante è un carillon che suona ripetutamente gli stessi accordi ed è veramente una melodia agghiacciante e questa è un'altra novità che argento introduce nel mondo dell'oro la colonna sonora e da argento in poi che si inizia a prestare attenzione alla colonna sonora e a ciò che la colonna sonora può fare e anche qui argento introduce gli elementi sopranatoriali nella colonna sonora perché questa colonna sonora non riproduce elementi della realtà non riproduce elementi della realtà quotidiana non riproduce il vento o il famoso clima il classico climax dei film horror in cui c'è il violino che suona sempre di più finché a te non piglia un infarto e spegne il film no qui la colonna sonora ti trasporta in una realtà assolutamente fantastica fantastica e tu quindi sei disorientato dalle immagini sei disorientato dalla colonna sonora la trama non gliene frega niente a nessuno così come i personaggi al di là del gatto a nove code dove c'è un interesse di caratterizzazione pian piano argento la caratterizzazione la porta ad andare a fanculo perché gli interessa l'immagine e questa sarà la caratteristica dell'horror italiana perché provate a guardare un film di Fucci non c'è la trama non si capisce niente provate a guardare la famosa trilogia del terrore di Fucci non c'è una trama non esiste sono immagini apparentemente a caso quella è la potenza visionare del film horror all'italiana introdotta da in primis argento poi abbiamo il grande maestro che è Lucio Fucci e questi sono capostipiti perché hanno rivoluzionato il genere per quanto possa piacere o meno ma questi della trama non gliene sbatte i maroni cioè che trama è ma non stai neanche a seguirli i dialoghi i dialoghi in alcuni punti sono anche comici in un horror un dialogo comico sembra stonare ma qui no perché qui tu sei disorientato da un'altra dimensione e questo segnerà poi tutta la produzione italiana fino alla fine degli anni 80 poi non si capisce perché sono tutti impazziti e cambiano un po' le cose e quindi il profondo rosso è il film più conosciuto perché introduce questo elemento però dopo profondo rosso che ricordo del 1975 troviamo il capolavoro il capolavoro argentiano e questo sì che è famoso in Giappone più famoso ancora di profondo rosso i giapponesi che sono più furbi degli italiani hanno detto questo film è più bello di profondo rosso voi italiani continuate a fare i conservatori e preferite profondo rosso no questo è più bello e i giapponesi ci hanno azzeccato ci hanno azzeccato anche questa volta il film in questione è del 1977 ed è Suspiria e qui introduciamo una nuova trilogia di Dario Argento che è la trilogia delle tre madri che si concluderà poi con la terza madre nel 2007 trilogia delle tre madri che comprende Suspiria Inferno e appunto la terza madre e Suspiria è inoltre il mio film preferito per cui se me lo criticate vengo a casa vostra e vi piglio a sprangate in testa perché è veramente un film un film bellissimo lasciatevelo dire chi apprezza l'oro e non ha visto questo film quella è la porta comunque al di là di queste considerazioni non vi preoccupate non vi prendo a sprangate solamente vi mitraglio in casa e Suspiria Suspiria è il film più bello a mio parere di Argento ed è un film che parla di streghe e qui entriamo proprio nel vivo dell'horror argentiano perché Profondo Rosso era sì un horror ma era anche un thriller qui invece proprio horror parla di streghe aggiunge il monto del esoterico aggiunge le streghe il soggetto gli deriva da Daria Nicolodi che era attualmente l'ex moglie di Dario Argento che aveva già preso parte a Profondo Rosso e che era interessata nelle streghe e di fatti bisogna essere una strega per sposarti quel brutto ceffo di Dario Argento che fa paura solo se lo vedi c'ha praticamente una gamba che va a destra e una gamba che va a sinistra cammina così comunque vabbè il soggetto gli viene da Daria Nicolodi e Argento si appassiona a questa vicenda delle streghe ma non solo perché non parla solo di streghe ma parla anche di una scuola di danza fondata dalla strega capostipite che era Elena Marcos e che poi si è trascinata avanti questa tradizione stregonesca nella città di Friburgo in Germania e questo film io ci potrei parlare veramente delle ore perché è un capolavoro è veramente un capolavoro con tutte le lettere maiuscole sottolineate perché è veramente un capolavoro cosa ha di bello questo cazzo di film perché è inutile elogiarlo non dirvi che cosa che cosa ha di bello questo film allora innanzitutto il soggetto anche qui non c'è la trama cioè la trama non è che non esista ma è semplice una ragazza Susie Bennett arriva a questa scuola di Friburgo rinomata in tutta Europa arriva e praticamente assiste assiste a una scena particolare in quanto vede una tizia che esce da questa scuola in corsa e dopo si scoprirà che questa tizia morirà e quindi questa la protagonista del film inizia a indagare con con una sua nuova amica su questa vicenda fino a scoprire le streghe questa è la trama e uno dice puttanata cioè perché è bello questo film cioè una trama da due soldi perché il film invece ne vale quattro di soldi e perché questo film è la potenza visionaria veramente fatta in persona cioè in questo film vi sono degli elementi veramente veramente quasi anarchici a livello di immagini partiamo dal gotico partiamo dal gotico come vi dicevo Argento prende ispirazione da Mario Bava da Mario Bava che è il regista del gotico italiano e qui l'argento supera Bava per me qui è la classica frase l'allievo che ha superato il maestro in quanto se voi guardate le ambientazioni di questo film sono qualcosa di spettacolare gotico perfetto gotico perfetto vi dico solo che la scuola di danza è praticamente la casa di Erasmo da Rotterdam che attualmente si trova nel centro di Friburgo ed è una casa bellissima rossa rossa con le finestre tipiche del gotico con le iscrezioni tutte le iscrezioni tutte le decorazioni tipiche del gotico sembra quasi una cattedrale queste streghe si sono instaurate in una specie di cattedrale monumento del gotico ma non finisce qui perché tutta la location tutte le location in cui i personaggi si muovono sono gotici sono totalmente gotici c'è un amore di argento verso i colori del gotico che sono il rosso il verde e il blu sono i tre colori del gotico e in questi palazzi sono presenti tutti c'è un palazzo all'inizio del film in cui vi sono praticamente una serie di vetrate colorate proprio con questi tre colori e spettacolare sembra banale sembra banale che mi metti qui a parlare mi metta qui a parlare dei palazzi del film ma i palazzi del film sono i veri protagonisti perché è in questo gotico in queste cattedrali moderne che si sta ora la sette delle streghe ed è già l'ambientazione che fa paura tu vedi questi palazzi enormi tutti lussuosi perché lussuosi sono palazzi gotici verticali e ti dà un senso di essere solo di essere solo che quindi da un momento all'altro ti capita il mostro di turno che ti pugnala alle spalle e così sarà già dall'inizio del film altra cosa altra cosa dopo il gotico la luce perché anche qui argento aggiunge agli elementi della realtà gli elementi del sopranaturale perché in questa scuola non c'è un'illuminazione normale si vede che avevano fitto i soldi per le luci a colorazione normale e hanno comprato le lampadine gialle verdi rosse e blu perché quando la protagonista spegne le luci costantemente vi sono queste luci rosse verdi e blu è un elemento fantastico non esiste nella realtà è impossibile è un'illuminazione totalmente inventata ed è questa illuminazione che fa paura perché tu si vede in questo ambiente totalmente buio questi bagliori di luci colorate e non capisci da dove provengono non ci capisci niente rimane folgorato da questi bagliori di luci rimane assolutamente folgorato e tutto questo film è basato sulla luce non è tanto la strega che fa paura è la luce è la luce il palazzo il particolare che nei film di argento suscita il terrore suscita la paura e qui sono le luci vi sfido chiunque trovarvi in una palazzo gotico quindi in queste cattedrali dove dimorano le streghe con queste luci vi cagate in mano e vi giuro che solo questo basta per cagarvi in mano altro dettaglio altro dettaglio importante è è quello delle porte ma chi se ne sparte delle porte di un film ma chi ci guarda l'argento ci guarda l'argento non guarda la trama guarda il dettaglio chi guarda le manie delle porte in quanto le manie delle porte se voi ci notate sono più alte dei personaggi perché perché argento voleva che i protagonisti di questo film fossero dei bambini poi la produzione gliel'ha vietato e quindi ha dovuto prendere degli adulti ma li ha travestiti da bambini e quindi voi come si viveste in un mondo totalmente fantastico popolato da bambini che però sono adulti che vivono in questo mondo fatto di luci questa è Suspiria non è la strega Suspiria è questo è un mondo che gira sulla fantasia che gira sulla potenza della visione poi al di là delle tendenze diciamo particolari di Dario Argento che le ha sempre le ha sempre manifestate questi espedienti sono totalmente rivoluzionari totalmente rivoluzionari altra particolarità di questo film la musica la musica ancora una volta affidata ai goblin e qui creano la colonna sonora più bella nella storia del cinema horror mi dispiace di tutti gli altri compositori che hanno fatto delle bellissime colonne sonore ma questa dei goblin di Suspiria supera supera la realtà e anche qui è fatta di respiri è fatta di suoni naturali stridenti che rompono in questa realtà e la trasformano sempre in un incubo perché Suspiria è un incubo che parte dal palazzo dalla maniera della porta dalle luci dalla musica perché la musica ci sono in certi punti c'è la scena in cui c'è la protagonista che sta attraversando la foresta nera ma già la foresta nera fa paura di sé c'è questa musica stridente in cui sotto si sentono dei sottofondi di urla già l'ambiente buio per queste urla in più ci mette ovviamente il classico temporale del film gotico e più ci mettiamo questi palazzi rossi eleganti con queste luci particolari che compagnano sull'orizzonte è questo che fa paura e Suspiria non sono tanto le scene non è tanto il trucco ma è questo la potenza visionaria una critica che è stata posta a questo film da da chi l'ha visto in anni recenti è stata mamma mia ma si vede che il sangue è finto si vede che i trucchi sono finti non avete capito un cazzo scusate se ve lo dico proprio biecamente e cinicamente non avete capito un cazzo non guardate film horror cioè non potete essere non potete essere fan dell'horror e dire Suspiria non è bello perché c'ha gli effetti fatti male mentre adesso fanno i filmoni con i super effetti bim bum bam no è come dire io sono fan dei Pink Floyd e poi conosco solo The Wall no senza cioè o per fare un esempio con la musica elettronica io sono fan del dubstep ah chi è il tuo autore preferito Skrillex ne conosci altri no è la stessa cosa tu fan dell'horror non puoi non aver visto questo film poi può piacere o meno quelli sono giudizi personali però di fatto non puoi portare come critica gli effetti speciali che innanzitutto sono sono di 30 anni fa senza l'utilizzo del computer quindi va contestualizzato poi ad argento gli effetti speciali non li fa non li fa con il computer li fa con le immagini li fa con le luci li fa con le porte li fa con i dettagli cioè chi va a dire Suspiria è un film brutto perché c'ha gli effetti vecchi allora non ci guardiamo neanche l'esorcista allora non ci guardiamo neanche la trilogia del terrore di Fucci ma andate qui a drogare che fate prima perché ecco non commento mi spiace a volte essere brusco però ci sono delle cose che mi fanno investire cioè non è possibile non è possibile cioè come se tra 20 anni che ne so un film come The Stranger che è stato un film che ha fatto cagare sotto mezzo molto mi arriva tra 20 anni il mio futuro figlio che so io mi dice ma The Stranger fa schifo perché ci sono le maschere che si vede che sono finte hai capito cazzo anche se sei mio figlio ma ti traio pure a te e quindi tornando a a sospiri è questo cioè non è l'effetto speciale è il contorno che crea è la cornice che si crea intorno a questo film che fa paura e vi assicuro fa paura perché inizia con questa musica inizia con queste luci inizia con questa atmosfera è dell'atmosfera più bella che si trova che si possa trovare nei film argentiani gli altri andranno incalando un'atmosfera così non ce l'ha avuta nessun film di argento non esiste è veramente qualcosa di di stupendo e poi anche gli omicidi gli omicidi al limite del razionale sono omicidi folli irrazionali e la crueltà delle streghe sta proprio poi in questo e questo era era sospiria scusatemi se ho aggredito volontariamente alcuni alcuni tipi di di persone che hanno mostrato determinate critiche ma sinceramente alcune mentalità io non le concepisco ecco non puoi valutare un film horror in base all'anno si valuta perché è ovvio è ovvio che man mano che si va con gli anni si migliorano gli effetti speciali però è anche ovvio che bisogna valutare un film horror in altri in altri ambiti e poi ultima considerazione chiudo qui con sospiria se no vi addormentate prima di arrivare alla terza madre e concludo con sospiria con una considerazione i film moderni soprattutto nell'ambito statunitense perché poi dagli anni 80 in poi gli stati uniti hanno avuto un po' il prodominio sui film horror sono composti dall'elemento che è l'effetto speciale io non parlo di tutti i film perché è ovvio che non tutti i film horror sono così ma la maggior parte dei film che ci propinano nei cinema sono film horror basati sugli effetti speciali solo su quelli quello è sbagliato perché il computer ci mette un tecnico e ti fa il miglior film horror della storia ma non è così a fare il film horror non ci va il tecnico ma ci va un regista che è in grado di avere una potenza visionare fantastica ed è questo che noi italiani purtroppo non abbiamo più e perché siamo su cubi di questa realtà americana che ci propina i robottoni ci propina gli alienoni i laser men in black men in white chi ne ha più ne metta è ovvio che poi siamo abituati a vedere questi film sotto un'altra un'altra ottica quindi mi scuso per aver insultato così tanto però era per farvi capire ecco per farvi capire questo concetto che secondo me è fondamentale il film horror non è fatto l'effetto speciale l'effetto speciale lo fa il tecnico al computer adesso all'epoca la faceva il tecnico della fotografia il bello del film horror deve essere ciò che fa paura che l'effetto speciale è frivolo ma ciò che rimane è la luce l'atmosfera l'ambientazione la musica è ciò che penetra e questo argento l'ha capito almeno fino a che non si è affidato agli effetti speciali del computer e poi ha fatto cagate dopo Suspiria nel 1980 fa Inferno Inferno che è il secondo film della trilogia delle tre madri qui la strega di Suspiria si chiama Mater Suspiriorum e anche usare i nomi in latino a me ha fatto paura perché io faccio latino a me il latino fa paura ma comunque questo è un elemento autobiografico in inferno la madre si chiama Mater Tenebrarum cioè madre delle tenebre mentre nella terza madre la madre sarà Mater Lacrimarum alla madre delle lacrime allora Inferno è il film più più fulciano di Argento cioè il film più anarchico di Argento in quanto qui l'immagine prende il posto della trama prende il posto del film negli altri film sì non c'era non c'era una trama costruita non c'era un'attenzione ai personaggi non c'era un'attenzione alla realtà quel che volete però diciamo un minimo c'era la costruzione qui non c'era la costruzione qui non è un film proprio anarchico basata sulla distruzione completa della struttura della trama sulla distruzione completa della realtà cioè ci sono delle scene che sono totalmente impossibili però noi siamo rapiti da queste scene impossibili c'è la protagonista che scopre che questo palazzo di New York è ovviamente stato costruito dall'architetto che aveva costruito i palazzi delle streghe la storia c'è andatela a leggere su wikipedia o meglio guardatevi guardatevi film e scopre questa tipo botola buca in cui gli cadono le chiavi le chiavi di casa lei entra in questa buca e si scopre che praticamente questo è il sotterraneo dove era la casa dove c'era praticamente una casa e questa qua si butta per prendere le chiavi in questa buca che profonda è praticamente nuota in questa casa sotterranea per prendere le chiavi e questa casa pulola di cadaveri no realmente è una cosa illogica se vedo c'è come se mi cadessero le chiavi sul fondo della fossa e le marianne io non mi butto nella fossa e le marianne vaffanculo vado a cambiare la serratura questa qua si è buttata l'irrazionalità pura e nel film ci sono piene pieno di scene irrazionali ma questo è anche il bello del film ecco è proprio questo il bello del film non l'effetto speciale ma l'irrazionalità che ti catapunta in un mondo talmente folle che tu credi sia vero e questa è la potenza e questa è la potenza di argento farti credere che sia vero una determinata realtà che vera non è perché non è vero non è possibile finzione però che non sembra finta sembra vera e quindi ti disorienta anche qui se sta storia del gotico perché praticamente diciamo che inferno viene in alcuni paesi soprattutto il Giappone chiamato anche che sospiri a due per cui diciamo riprende molti elementi le luci i palazzi alcuni omicidi la potenza dell'immagine eccetera eccetera quegli elementi ci sono sempre ma qui c'è proprio l'anarchismo dell'irrazionalità perdonate questi filosofeggiamenti l'anarchismo dell'irrazionalità perché ci propina delle scene non vere assolutamente finte però noi siamo proiettati in queste scene finte le crediamo vere le crediamo la realtà ed è questa realtà che spaventa questa realtà che però è finta nota diciamo particolare diciamo la colonna sonora qui abbiamo dei pezzi di Giuseppe Verdi quindi Argento vuole dare ampio respiro patriottico a questo film colonna sonora con proprio le arie di Verdi tra cui va pensiero e invece la colonna sonora scusate se prendo il film ma non mi ricordo il nome dei tipi ma tanto non credo che ci siano neanche scritti comunque non è affidata a non è affidata ai goblin e di fatti non c'è scritto mi dispiace a volte pecco anche io a volte mi dovete dare l'insufficienza anche a me e comunque non è fatta dai goblin e di fatti perde un po' la potenza la potenza visionare di quella colonna sonora però c'è un ma c'è un ma perché alla fine c'è un crescendo di questa colonna sonora che sfocia proprio in una melodia anarchica una melodia anarchica pura in cui ci sono una serie proprio una composizione orchestrale quindi una serie di violine con sotto dei cori che citano i nomi delle madri citano praticamente i nomi delle madri per tot di minuti e tu sei disorientato da questa colonna sonora dalla fine proprio della colonna sonora nelle scene finali e questa colonna sonora ti porta alla fine del film che è totalmente credo che sia uno dei finali più belli di Argento ve lo dico chiaramente Inferno ha uno dei film ha il finale più bello della filmografia argentiana voi rimanete stupiti perché vi presenta un elemento che questa volta è totalmente impossibile impossibile proprio a livello cronologico impossibile che però c'è esiste e tu lo credi reale e ti fa paura perché anche qui non ti fa paura la strega perché la strega compara alla fine ma non è quella non è la strega a fare paura è questo è questo personaggio totalmente razionale che chi guarderà il film scoprirà la sua identità quella è l'elemento che fa paura collegato proprio a una colonna sonora così in climax con che cita i nomi delle tre streghe e questo è sicuramente un finale capolavoro capolavoro della produzione argentiana torno un attimo a Suspiria si vede che proprio mi fa schifo il film torno a Suspiria perché gli americani come al solito hanno deciso di fare il remake perché da determinati anni in poi da praticamente la metà degli anni 2000 in poi gli americani hanno deciso di fare il remake perché non avevano più idee non lo so vogliono fare solo soldi e fanno solo remake e vogliono fare il remake anzi lo stanno già facendo di Suspiria chiamato Suspiria 2 la bellezza di Suspiria come vi ho detto sta nelle ambientazioni sta in questi palazzi gotici sta nella storia nella storia dei protagonisti che sono adulti ma sono bambini il remake è ambientato in New Mexico adesso per quanto il New Mexico possa essere uno stato bellissimo dove cazzo ci sono i palazzi gotici in New Mexico 1 2 è uno college americano dove è ambientata la vicenda se American Pie va bene non dico nulla perché credo che voi abbiate capito cioè il film horror la bellezza dell'horror è la visionarietà è la potenza dell'immaginazione è l'entrare in queste nuove realtà non il remake fatto che sia cazzo per prendere soldi non ce l'ho con il remake perché ci sono dei remake fantastici ma ce l'ho con questo tipo di remake che è fatto solo per prenderci soldi questo denigra la figura del regista e denigra la figura dell'horror non devi fare non devi fare per soldi l'horror che fa paura non è quello degli effettoni speciali non è quello fatto per soldi l'horror che fa paura è l'horror che ti catapulta in una realtà che spaventa che spaventa terminato Inferno siamo oltre la produzione degli anni 80 di Argento qui diciamo iniziano le cosiddette note dolenti per me no per me iniziano dai anni 90 però per molti critici e molti fan di Argento da qui in poi diciamo inizia la decadenza di Argento secondo me ancora no perché Argento fa quest'altro film che è Fenomena Fenomena che è un film che secondo me potrebbe essere considerato il degno successore di Suspiria Fenomena è un film innanzitutto in cui Argento scopre Jennifer Connelly che è un'artista che attualmente fa dei film ad Hollywood quindi un'artista che è diventata famosa ed è una delle artiste proprio considerata più brava ad Hollywood quindi da Argento ha avuto anche il merito di aver scoperto questa bellissima nonché non mi accusate di pedofilia perché all'epoca era molto giovane e anche soprattutto bravissima e Fenomena indaga dei temi assolutamente particolari che entrano per la prima volta diciamo una delle prime volte non proprio la prima nel mondo dell'horror e questi temi sono i temi dell'alienazione e del sentirsi diversi perché sia la protagonista e sia il mostro che c'è alla fine del film perché alla fine del film c'è il mostro e sono alienati sono presi in giro perché diversi la protagonista è presa in giro perché parla con gli insetti gli insetti che saranno peraltro degli insetti ne parlerò dopo è presa in giro perché parla con gli insetti perché è diversa e qui Argento indaga quello che è il tema del pregiudizio che è totalmente sbagliato che è totalmente sbagliato questa persona è super intelligente però viene indiscriminata perché parla con gli insetti questo è il paradosso dell'umanità su cui poi tutta la storia si è fondata e qui Argento lo intaga lo stesso è il mostro il mostro non è che è un mostro perché è una cratero fantastica il mostro è un bambino è un bambino però perché lo chiamano mostro? perché è deforme è deforme e quindi brutto e quindi ha paura di guardarsi allo specchio e viene totalmente isolato non ha nessun amico a parte la madre che è un po' pazza schizofrenica non ha nessun amico viene totalmente isolato e quindi impazzisce e quindi impazzisce perché si vuole vendicare c'è un revascismo sotto ovviamente questa bruttezza però vedete noi chiamiamo un mostro un bambino un bambino solamente perché è brutto e deforme e questo è un concetto sbagliato di tutti anche da parte mia è sbagliato chiamarlo mostro Ergento qui ce lo mostra ce lo mostra in maniera fantastica altra considerazione qui la colonna sonora torna in parte ai goblin e in parte anche viene composta dagli Iron Maiden abbiamo delle collaborazioni fra goblin e Iron Maiden quindi potete immaginare che colonna sonora fantastica che viene che viene fuori da questo film veramente una delle più belle colonna sonore dei film non a livello di suspiri a profondo rosso ma gli Iron Maiden diciamo che fanno la loro parte e perché ovviamente il metallo strade duro come strade duro questo tema che è il tema della diversità elemento fondamentale secondo me in questo film sono anche gli insetti gli insetti purtroppo unico elemento e l'unica volta qui che Argento introduce termina gli insetti perché gli insetti rappresentano l'aiuto che questa protagonista ha rappresentano gli unici amici che questa protagonista ha e quindi rappresentano un po' la via di fuga della diversità rappresentano delle creature che sanno comprendere i sentimenti sanno comprendere l'essenza di una persona e non guardano non si fermano al pregiudizio ma vanno assolutamente oltre e secondo me questo è Fenomena che per i temi non tanto per i film in sé perché è ovvio che a livello tecnico fotografico musicale tutto effetti speciali lucido è inferiore agli altri di Argento però a livello tematico è secondo me quello più forte della produzione argentiana dopo Fenomena e siamo nel 1985 Argento scusatemi ho sbagliato cronologia prima di Fenomena c'è Tenebre vabbè lo facciamo dopo chi se ne frega dalla cronologia abbiamo Tenebre che veniva prima di Fenomena ma pazienza non credo che voi muoriate se io ho sbagliato la cronologia Tenebre Tenebre che è un film ancora una volta che torna al giallo quindi non siamo più nel panorama horror Fenomena film horror Tenebre no Tenebre torna torna al giallo e parla di una storia di uno scrittore uno scrittore che ha scritto questo libro che si chiama Tenebre appunto e che riceve praticamente le lettere di un assassino che uccide nello stesso medesimo modo del di come lo scrittore aveva praticamente fatto uccidere i suoi personaggi all'interno del libro questo è un giallo diciamo che ritorna quasi alla trilogia degli animali torna un po' indietro argento nelle scene quindi diciamo che la potenza delle luci non c'è le ambientazioni sono sicuramente inferiori rispetto agli altri film però qui secondo me argento è attento alla trama per una volta lo posso dire attento alla trama perché la trama è veramente basata sul rovesciamento delle situazioni ed è basata sul sul rovesciamento delle situazioni perché lo spettatore si aspetta una determinata cosa dalla trama ne avrà totalmente un'altra ancora una volta che argento è in grado di creare disorientamento ed è bellissima la scena una delle scene finali in cui il protagonista il pubblico crede una cosa crede che il film sia finito e invece argento ci dà l'effetto speciale ancora una volta effetto speciale non dato dal computer ma dalla genialità di un artista ed è questa che conta nella filmografia non nel computer ultimo elemento di Tenebre la colonna sonora qui viene affidata solamente ai goblin è bellissimo è l'incipit con cui Tenebre inizia che è una delle canzoni più famose non solo del cinema come colonna sonora ma è una canzone che è diventata famosa anche perché è stata ripresa nel mondo dell'electro rock e del french touch francese Die Justice che hanno rifatto proprio questa l'incipit di Tenebre di Dario Argento in chiave moderna quindi vedete come un artista per questo film degli anni 80 un film di 30 anni fa possa essere ancora contemporaneo bisogna superare il pregiudizio dell'effetto speciale fatto male perché ovviamente adesso ci sono tecniche più moderne bisogna superarlo questo pregiudizio e Argento ce lo insegna e i Justice rifacendo l'incipit di questa colonna sonora ce lo insegnano e questo era Tenebre ora mi affido a Wikipedia perché così non sbaglio più le date e non vi metto in casino nel 1887 Dario Argento fa opera Dario Argento fa opera opera è un film che io ho visto la prima volta la rassegna cinematografica di Pesaro Rubino dedicato a Dario Argento con Dario Argento seduto a fianco quindi ho avuto questo onore di conoscere anche se poi ovviamente conoscenza per modo di dire il maestro del brivido quindi opera segna diciamo una forte esperienza una forte esperienza per me opera è un film dentro un teatro perché perché è importante questo perché tutti i film di Argento sono delle opere teatrali perché perché si basano sulla finzione anche se poi lui ce la trasforma in realtà ma si basano sulla finzione e lui e quindi è teatro tutti i film di Argento sono teatro e opera ancora più teatro perché è ambientato nel teatro qui ancora una volta torna l'opera lirica e quindi le arie le arie dei compositori lirici come in Inferno non mi ricordo quale opera stavano provando vado subito a vedere lirica